Il giocatore giallorosso Dino da Costa E' uno scatto che lo ha reso uno dei più forti goleador dei nostri campi. Cerca ora la collaborazione dei compagni, lui che sfondava con azioni individuali. Appare spesso lento, abulico, sfasato. Non ha gioco di testa, in questo è nettamente battuto dagli avversari. A sprazzi riconferma la sua classe, anche se manca di un soffio il bersaglio. Poi due brevi scarti e la stangata sotto la traversa, gol. Il successo lo inebria, ha ritrovato per un attimo se stesso, impazzisce di gioia.